Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, buon primo novembre e auguri a tutti perché oggi è la festa di tutti i santi e quindi anche chi non ha un santo nel calendario oggi può festeggiare e questa è una cosa bellissima. Oggi giornata tranquilla di riposo in famiglia, abbiamo mangiato dalla rinella, adesso siamo a casa tutti tranquilli, ognuno nelle sue stanze, chi è uscito con Codi a fare una passeggiata, io vi registro la seconda parte dello svuota spesa DM con i prodotti beauty, skin care, corpo, eccetera, eccetera. In questi giorni sono poi giorni del ricordo, almeno per noi, noi come tradizione non sentiamo molto la festa di Halloween, ma non perché abbiamo nulla in contrario, anzi mi piace tantissimo come viene festeggiata negli Stati Uniti perché è la loro tradizione, ma per me non fa parte del mio vissuto e quindi non l'ho mai festeggiata, non per cattiveria, ma perché non la sento mia e abbiamo sempre festeggiato, abbiamo sempre ricordato in questi giorni i nostri defunti e tutti i santi. Era tradizione per esempio nella mia famiglia che la notte, la sera del primo di novembre ci si trovava in casa del familiare più anziano, quindi in questo caso era una zia di mio papà, ci si trovava tutti noi bambini, tutti i cugini, tutti gli zii, si recitava il rosario e poi si mettevano sulla tavola delle castagne bollite con dei bicchieri d'acqua perché i nostri morti venivano a mangiare e a bere e ovviamente alla sera poi il mio papà mangiava qualche castagna, lasciava le bucce sul tavolo, beveva l'acqua e quindi quando ci si alzava la mattina c'era questa sorpresa che i nostri morti erano stati contenti ed erano venuti a trovarci. Questa è un po' la mia tradizione che abbiamo portato avanti in tanti anni, fin quando i nostri figli hanno avuto una certa età e poi ognuno ha preso la sua strada e giustamente è stato in grado di decidere cosa fare e cosa non fare e quindi vabbè ci siamo ritrovati soltanto io e Paolo e la Lucia e questa cosa ha perso un po' il suo fascino, il suo gusto e mi spiace un po' questa cosa perché le tradizioni se non siamo noi che le portiamo avanti si vanno un po' a perdere. Ieri ero così in passeggiata sul Viale Turati, ho visto tantissime famiglie, ma tante tante famiglie giovani con bambini piccolini tutti travestiti e io stupidamente non ho pensato ad Halloween, mi sembrava che fosse carnevale perché erano tutti travestiti, dopo mi è venuto in mente perché entravano nei negozi a chiedere scherzetto o dolcetto e allora da rintronata quale sono mi sono ricordata che si festeggiava anche Halloween. Ma bando alle ciance vi faccio vedere la seconda parte del mio svuota spesa DM. Allora, ho comprato non per me perché li avevo già, dei calendari dell'avvento, vi faccio vedere il mio ma non vi faccio vedere cosa mostra perché il calendario dell'avvento si apre solo dal primo di dicembre, almeno per me è tradizione così, se riuscirò vi farò delle stories, qualcosa con quello che c'è dentro ma al momento quindi questo l'ho preso per alcune amiche, per una mia zia di 85 anni che ha avuto il calendario dell'avvento, gli ho ingrandito la traduzione perché se no non sapeva neanche cosa prendeva ma fa niente, questo è quello che abbiamo comprato, ce n'erano ancora non tantissimi e mi dicevano le commesse del DM che purtroppo tutti gli altri calendari tipo il calendario di Catrice, il calendario di Essence non sono neanche entrati in negozio. mi ha detto che c'erano le persone fuori dal negozio che aspettavano i trasportatori e hanno svuotato gli scatoloni ancora prima che entrassero e li mettessero sugli scaffali, questa cosa mi spaventa un po' perché ok va bene cerco il calendario dell'avvento ma se non lo trovo non succede mica niente di male e mi dicevano che appunto una volta finiti quelli che avevano il negozio non ce ne sono più insomma. C'erano ancora i calendari di DM da donna diciamo insomma con i prodotti per la skin care femminile, ho preso al Mattia perché se no mi sarei sentito tantissimo in colpa e a lui piace tantissimo perché i miei figli anche se hanno 24, 23, 18 anni il calendario dell'avvento lo vogliono sempre, a Mattia piace così curarsi e quindi gli ho comprato il Balea Men, a Pietro comprerò un calendario dell'avvento delle tisane o qualcos'altro a meno che ci sia un calendario dell'avvento per i muratori o per i contadini ditemelo che vado a cercarlo, Lucia li avete già visti quelli che li avevo comprati e quindi se volete andare a vedere al DM di, non mi ricordo mai dove cacchio vado, va bene, dopo ve lo lascio sotto, non ho Oreo al serio ma il DM di, vabbè andate al video prima e vedete in che DM sono andata, non mi ricordo il nome del paese, comunque ce ne sono davvero davvero pochi, non c'è tantissima roba, per esempio il calendario dell'avvento, quello delle tisane del tè è finito subito, tantissimi prodotti della linea limited edition con il cioccolato bianco e il cioccolato cioccolato, non ce ne erano più e probabilmente non arrivano, quindi vabbè ho comprato alcune certezze, tante maschere perché voglio fare dei piccoli regalini a delle mie amiche, alcune novità per me e poco altro insomma, poco altro, vabbè c'ho qua il tavolo pieno ma poco altro. Avevo detto nell'altro video che avevo comprato la tisana del Good Morgen, cioè quindi buona giornata, eccola qua, questo fa parte ancora dello svuoto alla spesa cose di casa ma ve la faccio vedere perché l'ho ritrovata nel sacchetto, anche questa 1,89€, le ho provate e sono veramente veramente buonissime, sono bio quindi secondo me per questo prezzo e per 20 filtri, giusto sì, a 1,89€ vale la pena, sono profumatissime, io non metto né miele né zucchero, le bevo nature e sono davvero molto buone, molto saporite, hanno un buonissimo sapore e hanno un buonissimo profumo, ve le consiglio, sì. Andiamo in ordine, cerchiamo di andare in ordine, allora la Lucia ha fatto scorta dei suoi cerottini, sia quelli per i punti neri e vedete voi che ogni volta che andiamo lei ne compra una paccata ma perché li utilizza e a suo parere sono i migliori, abbiamo provato quelli della Nivea, abbiamo provato un'altra marca che c'era il Tigotà ma a parte che costano un patrimonio e questi sono buonissimi, questi vengono 1,89€ per 36 pezzi di dischetti anti brufoli, anti punti neri, insomma, questi, ho sbagliato, questi sono anti brufoli, ho comprato tre tipologie diverse, allora ne ho comprati due anti brufoli, adesso mi ricordo, e questi costano 1,89€, poi abbiamo comprato questi invece che sono cerottini anti punti neri e costano 0,99€, ok, e questi che sono sempre cerottini nasali al carbone per pelle impura e mista a 1,99€, comunque si aggirano, se non ho detto il prezzo giusto di questo è 0,89€ o 1,89€, comunque sono questi prezzi qua e per Lucia questi qua sono i migliori, quindi quando andiamo noi ne facciamo sempre scorta. Non vi ho detto l'altra volta perché nella foga di raccontarvi la mia giornata shopping mi sono dimenticata che il DM, ma ormai lo saprete tutti, ha finalmente attivato anche in Italia il sito online per gli acquisti, non ci sono tutte le novità e tutte le tipologie, alcune cose le trovate soltanto in negozio, però per chi non lo ha a disposizione la maggior parte degli articoli è disponibile, quindi per chi non ha un negozio vicino, soprattutto per le amiche e gli amici da Bologna in giù, riescono comunque a trovare quello che stanno cercando, quello che vogliono acquistare. Poi ho comprato con immenso piacere, le mie solite maschere che soprattutto adesso che ho fatto la decolorazione totale sono favolose, sono secondo me a livello professionale e anche qui ringrazio sempre Elisabetta R perché avendo anche lei i capelli decolorati dà sempre consigli super utili per i prodotti che si possono utilizzare, questi sono veramente ottimi, anche la mia parrucchiera lo ha detto perché glielo ho fatti vedere e mi ha detto sì sono buoni, utilizzali tranquillamente e li ha comprati anche lei. Quindi queste sono Balea Professional Argento Vivo correttore tonalità capelli 20 ml, io questo lo faccio adesso che devo farlo su tutto e ne uso anche una ogni 15 giorni, però sono buonissime e costano 0,99, quindi ragazzi sappiamo quello che spegniamo. Questa è Argento Vivo trattamento immediato per capelli, quindi un trattamento da 20 ml, anche questi 0,99, qua ne avevo altre in scorta quindi ne ho prese solo due. Poi ho preso il balsamo che avevo finito ma questo mi dura tantissimo quindi ne ho comprato soltanto 1 a 1,99, sia di shampoo ne ho in scorta due, sono veramente buonissimi, tonalizzano tantissimo, tolgono il giallo, sul consiglio della mia parrucchiera io praticamente lo faccio una volta alla settimana e devo dire che l'effetto si vede, sono veramente ottimi. Poi siccome stavo comprando questi articoli, mi alzo un secondo per modo di dire, la commessa gentilissima del punto vendita dm mi ha detto, guarda vuoi dei prodotti ottimi che sono professionali, questi te li consiglio, sono buonissimi, qualità ottima come rapporto qualità prezzo e mi ha consigliato questa maschera colorante, color mask argento vivo di questa marca che si chiama Alama, ha detto che è una marca professionale che usano anche parrucchieri, infatti c'erano shampoo, balsami in formati molto molto grandi da mezzo litro, io di shampoo e di balsami ne avevo, non li ho comprati ma ho comprato la maschera per i capelli e poi vi saprò dire perché non l'ho ovviamente ancora usata e la schiuma antigiallo per capelli biondi, grigi e decolorati. La maschera costa 7,95€ e la schiuma per capelli 4,99€. Li provo e poi vi saprò dire come mi sono trovata. Poi siccome in questo periodo la mia pelle sta facendo la pazza, ma la pazza davvero perché con queste temperature e soprattutto con tutti gli scompensi dati dalla menopausa, io ho la pelle molto molto disidratata che suda ovviamente tantissimo e quindi mi dà molto fastidio, molto irritata, riesco a mettere davvero pochissime creme, pochissimi seri e ho voluto provare questo siero calmante. Adesso se trovo la traduzione ve lo dico. Allora, siero calmante con 0,3% di ceramidi e 3% di grassi omega 3. Riduce le irritazioni cutanee e rigenera la pelle. Ecco voglio provarlo perché davvero in queste ultime settimane la mia pelle sta proprio impazzendo e mi dà anche parecchio fastidio. Se non uso dei detergenti delicati e mi trucco, devo truccarmi veramente pochissimo, mi brucia, si creano delle imperfezioni, i rossori della mia cuperose diventano ancora più evidenti. Insomma non è un periodo molto bene per la mia situazione ormonale. E vabbè, io ho voluto provarlo. Questo l'ho pagato 6,99€. Lo metterò subito in uso perché voglio vedere come funziona. Poi reparto labbra, non si esce dal DM se non si hanno le maschere ma anche se non si hanno i burri cacao. Ho preso di scorta questi burri cacao, siccome io i burri cacao ce li ho dappertutto, ne ho due in ufficio, in ogni piano, cioè qua in cucina ne ho uno, nello zaino ne ho uno, in camera ne ho uno, in bagno ne ho uno, quindi ce li ho distribuiti da tutte le parti. E ho voluto prendere questo che ho sentito da tante amiche che l'hanno consigliato che è buonissimo. Balsamo labbra con un livello spinoso bio dell'Alverde e l'ho pagato 1,69€. E poi questo che era in limited edition ed è, allora, dolce vanilla e biscotto a 1,25€. E anche questi li proveremo. Poi sempre per le labbra ho voluto provare Lip Care Boster 10% Milka, non riesco a vedere, maschera labbra notte per le labbra con il 10% di estratto di latte d'avena. Questa della Essence e l'ho pagata 3,79€. E poi lo scrub peeling, sempre della Essence, a 2,99€. e anche questi li proverò. Sono curiosi. Poi le certezze sono sempre queste. Allora, ho voluto provare un gel da rasatura. Di solito Lucia usa la schiuma. Questo era a 2,29€ e l'ho preso per vedere un po' com'è. Poi, anche se non siamo più in estate, ho preso Eternal Summer, un gel da rasatura, anche questo, da 200ml. E li ho pagati entrambi 2,29€, forse l'ho già detto. Così li proviamo. soppini anche dove mette la roba. E poi, vabbè, ho preso comunque una schiumetta che male non fa, a 1,69€. Come trucco, stavo cercando l'eyeliner che Elisabetta aveva consigliato della nuova linea di Essence. Non li ho trovati lì, ma l'ho trovato al Tigotà ieri e infatti l'ho comprato. Poi dovrò farvi anche il video di tutti gli articoli make-up che ho comprato. Ultimamente io non compro tantissimi articoli di make-up, ma questa volta mi sono veramente lasciata andare con la collezione dei cattivi di Essence e di Catrice. E ho voluto provare a comprare questa Smoky Eyes Pen. Allora, a me l'effetto Smoky piace tantissimo, ma io non sono capace di farlo. Nel senso che se me lo faccio, dopo esattamente un'ora, sembra che io abbia ricevuto due puni negli occhi e ho l'effetto Panda. Però voglio imparare. E allora sto guardando dei video online, perché ad imparare si fa sempre in tempo. E mi sono comprata questa matita, che mi sembra molto molto scrivente. Vediamo come funziona. E di qua c'è lo sfumino. Vedete? Questo è il pennarellino per sfumare. Pennarellino sì, per sfumare. E questa invece è la matita. Vediamo. Ecco. Forse per me potrebbe andare bene. Perché diventa anche un po' meno evidente. E sembro meno Panda. Ma vediamo. Le lezioni di trucco sono appena iniziate. Poi, 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 poi. Le solite certezze. Queste creme di cui io faccio collezione, perché mi piacciono tantissimo. Le uso anche, ma mi piace tenere il barattolino. E poi se devo fare qualche regalino extra piccolino, questo va bene. E sono crema nutriente per viso, labbra e corpo. Io la uso per le mani. E la tengo in borsetta. Ma la confezione era veramente troppo troppo carina. C'erano solo queste o quelle estive. Io se vado che ne trovo di diverse, queste le compro sempre. E le ho pagate 1,49 euro. Altra certezza sono sempre i bagnoschiuma. Questa volta ne ho presi soltanto due. Questo, che è in limited edition, anche questo, ed è, questi li ho già aperti perché tanto li usiamo, hanno dei profumi dolcettosi. Questo è doccia crema idratante al profumo di vaniglia e limone, sembra una torta. Una torta? La torta della nonna. avete in mente quella al vaniglia e limone e sopra ci sono i pinoli. Ecco, questo è il profumo della torta della nonna. E questa, invece, ha il profumo di mandorle e fiori di cotone. Questo è buonissimo. Molto, molto avvolgente. Ma vi deve piacere la mandorla perché si sente davvero tanto. E questi due li ho pagati 1,29 euro. Poi abbiamo, ovviamente, la saga delle maschere. Qui ne ho comprate tante perché devo fare un po' di regalini a Natale. Ho preso quella al retinolo, a 0,99 euro. Ho preso quella antibrufoli e purificanti con T3. T3. Ne ho sempre prese due. Poi ho preso questa con i fanghi del marmorto, sempre a 0,99 euro. Poi non ho potuto non prendere queste. Con i Waffle Time. It's Waffle Time. Che sono meravigliose. Maschere di viso tessuto con estratto di frutti di bosco ed acido dialuronico. Queste ne ho prese cinque. Ho intenzione di fare qualche regalino e magari una o due. Me le tengo anch'io, però il pack è veramente meraviglioso. Poi, questi invece li ho presi per me perché mi piacciono da morire. E sono i sugar scrub per il viso e la vitamina C. Sono ottimi, ottimi, ottimi. Sempre a 0,99 euro. E ho preso queste meraviglie perché non potevo lasciarle lì. Come dice la Elie Elisabetta. Queste sono meravigliose. Ne ho prese quattro. Queste le ho pagate. 1,99 euro. Questo ve l'ho detto cosa costavano. Non mi ricordo più. L'ho segnato da qualche parte. 1,49 euro. Allora, 1,49 euro queste. E 1,99 euro queste. Poi, ho preso queste due da 1,49 euro al latte di cocco perché l'avevo già comprata e mi è piaciuta tantissimo. Quindi ne ho ricomprate due. Una per me e una per la Lucy. Anche se la Lucy è un po' stufa del cocco. Come novità per me, ho preso questa crema viso antimacchia alla vitamina C, 5 e 29. La proveremo. Ultima certezza. Poi le altre cose sono tutte nuove. Non potevo non prenderlo perché io mi sono trovata benissimo. Ve l'ho detto nell'ultimo video dei prodotti finiti. È fenomenale questo scrub ai tre oli. Cioè, con olio di manderla bio e sale del mar morto. Ed è veramente favoloso. Cioè, a parte il profumo, ve l'ho detto che quando lo fate non avete neanche bisogno di mettervi la crema corpo. Ma è, per me, fantasmagorico. Mi diceva appunto la commessa che è uno dei prodotti che va di più e spera ardentemente che non lo tolgano dagli scaffali perché è buonissimo. Sono 300 grammi di prodotto per 3,99 euro e li vale tutti. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Questo ve lo consiglio. Anche tutte le altre cose ve le consiglio. Poi, non avevo mai provato e l'ho comprato un burro corpo di al verde. Allora, burro corpo ai fiori di arancio bio e al burro di karité. 200 ml per pelle molto secche. Io sul corpo ho una pelle normale, ma d'inverno mi piace idratarla molto. Quindi solo alla sera, dopo aver fatto la doccia a pomeriggio e alla sera, uso un burro. Questo è 4,59 per 200 ml. E vi saprò dire, questa per me è una novità. E anche questa per me è una novità. Burro corpo con burro di cacao al profumo di frutti di bosco. 200 ml, sempre per pelle molto secche, ma secondo me questa non è una cosa importante. Per me ha 2,99 euro. E di queste vi saprò dire. Poi ho preso, per Mattia, che purtroppo in questo momento sta soffrendo tantissimo con la sua iperidrosi ai piedi. Ho preso questo deodorante 2 in 1. Balea spray deodorante piedi 200 ml. Per formula arricchita con olio di T3. E antibatterico. Ecco, spero che gli dia un aiuto perché davvero ultimamente ha risolto parecchio con quella crema che avevo detto, che mi aveva mandato Stylevana. Però purtroppo lavorando tutti i giorni, come cameriere, tenendo le scarpe tutto il giorno, insomma è abbastanza difficoltoso. Quindi appena torna a casa si fa un bel pediluvio con dei sali rinfrescanti, si mette la crema. E ho voluto comprargli questo deodorante. E in più per le scarpe, forse questo l'avevo consigliato anche questo Laeli. E ho preso questo deodorante per scarpe. Vediamo se anche questo magari ci dà una mano perché dobbiamo mettere le scarpe fuori dalla finestra. Cioè, proprio ve lo dico. E vediamo. Allora, costano entrambi 2,49 euro. Tre cremine mani che non so se terrò o se regalerò perché sono troppo pucciose e carine. Costano tutte 1,19 euro. Una al profumo di latticello con estratto di limone. Questa l'ho già comprata, ma siccome la mia amica Simona di Pensiere e Pasticci mi dice che a volte c'è e a volte non c'è, siccome l'ho vista ce ne erano tante, ne ho comprata un'altra di scorta. Questa è buonissima, la sto usando, è veramente molto molto buona. Questa invece è alla camomilla e questa è crema mani, idratante, non dice a che cosa, è una limited edition. Ho comprato anche questa. Tutte e tre costano 1,19 euro. Come ultimo, una novità per me perché non li avevo mai visti, sempre consigliati dalla commessa del DM di Curno. Ecco, mi sono ricordata Curno. Questi dischetti struccanti super super invevuti, che lei mi ha detto stanno andando a ruba, sono appena usciti, così mi ha detto lei. Sono dischetti struccanti per gli occhi con acqua micellare, anche per make up waterproof, 50 pezzi, con oli e vitamina E senza profumi, dermatologicamente e oftalmologicamente testati. Olè! Mi ha detto che sono buonissimi, mi li ha fatti vedere, mi ha aperto una confezione apposta perché non c'era più il tester. Sono sottilissimi e sono super 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 invevuti. A detta sua sono fantastici, soprattutto da portare in viaggio in quelle occasioni di emergenza che non si ha un burro struccante, un olio struccante o anche solo per chi non usa un burro o un olio per la doppia detersione ma usa soltanto l'acqua micellare. Questi sono imbevuti di olio e sono favolosi. Sono 50 dischetti per 1,45 euro, io ne ho comprate due confezioni. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto, se non vi ho detto tutto, pacienza. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio di relax, un buon pomeriggio ancora di festa, per chi in questi giorni ha fatto anche il ponte, oggi si conclude e ci vediamo al prossimo video. Oggi qua piove, forse c'è un po' di tempo che è autunnale, non più come una volta ma si spera e godiamoci le ultime ore di questo bel ponte lungo. Ci vediamo prossimamente, ci vediamo con un nuovo video e vi abbraccio, vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione di settimana. A presto e ciao, grazie!